Ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale continuiamo a realizzare pezzi che andranno a comporre il nostro coniglietto. Iniziamo subito perché tanto le cose ce le siamo dette nel video precedente e andiamo a fare le orecchie. Fino al terzo giro facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per la testa, quindi adesso non lo stiamo a rifare insieme e arriviamo a 18 maglie basse, quindi copiate necessariamente i primi tre giri della testa. Queste 18 maglie che noi abbiamo così ottenuto le andiamo a ripetere dal giro 4 fino al giro 9, quindi per 6 giri noi facciamo sempre 18 maglie basse. Eccoci al nono giro con 18 maglie basse. Adesso dobbiamo fare una cosa molto semplice e carina, cioè fare una diminuzione all'inizio del giro e poi lavorare le maglie che rimangono. Quindi nel decimo giro noi facciamo una diminuzione e 16 maglie basse, così otterremo 17 maglie basse. A 18 ne togliamo una, questa qui appunto. Pertanto facciamo subito la diminuzione, che è questa. E lavoriamo le altre 16 maglie basse, no? In tutto saranno quindi 17 nel decimo giro. Stessa cosa nell'undicesimo giro, facciamo la prima diminuzione e poi 15 maglie, quindi in tutto poi alla fine ne avremo 16. Quindi qua ci mettiamo subito una diminuzione. E poi lavoriamo 15 maglie basse. Dodicesimo giro, una diminuzione e poi 14 maglie basse, quindi in tutto 15. Questa è la prima diminuzione. E poi andiamo a fare le 14 maglie basse. Tredicesimo giro, una diminuzione e 13 maglie basse, quindi in tutto 14. Quattordicesimo giro, una diminuzione e 12 maglie basse, quindi in tutto 13. Le maglie basse finali saranno, nel quattordicesimo giro, 13. Questa è la diminuzione, facciamo altre 12 maglie basse. Il nostro orecchio è terminato, adesso non facciamo altro che andarlo a schiacciare. In questo modo, togliamo il segnapunti, che tanto non serve assolutamente più. Tagliamo il filo, ma questa volta lo lasciamo un po' lungo, perché ci servirà anche per andarlo ad attaccare, nonché a cuscirlo qui. Pertanto, adesso chiudiamo questa porzione con l'ago. Pertanto, adesso chiudiamo il filo. Pertanto, adesso chiudiamo il filo. Va bene, fatene due, perché tanto si fanno entrambe nello stesso modo. Iniziamo il corpo arrivando a fare i primi quattro giri della testa. Ok, quindi li andiamo a copiare e ci troviamo in questa situazione, ovvero con 24 maglie basse. Adesso, nel quinto giro, noi ripetiamo il modulo 3 maglie basse e un aumento per 6 volte e andremo ad ottenere 30 maglie basse. Quindi facciamo 3 maglie basse e un aumento. Queste sono le 3 maglie basse e poi mettiamo l'aumento. Benissimo, ripetiamo questo modulo fino alla fine. Nel sesto giro arriviamo a 36 maglie basse, quindi dobbiamo mettere 6 aumenti. Ripetiamo il modulo, 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. Quindi questa è la prima maglia bassa, 2, 3, 4 maglie basse e poi l'aumento. Questo è il modulo da ripetere in tutto 6 volte. Nel settimo giro aumentiamo ancora 6 maglie e arriveremo in questo modo a 42 maglie basse. Ripetiamo il modulo, 5 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse e poi qui ci mettiamo l'aumento. E questo è il modulo da ripetere 6 volte. Ora dal giro 8 fino al giro numero 12, quindi per 5 giri, noi andiamo a fare e a ripetere 42 maglie basse. Nel tredicesimo giro andiamo ad affusolare un pochino il corpo, perché questa sarà la parte anteriore e qui stringiamo un pochino per andare verso la parte posteriore. Per cui io farei 5 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e torneremo in questa maniera a 36 maglie basse, quelle che avevamo nel sesto giro. Quindi ripetiamo il modulo, 5 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse e poi una diminuzione. Ecco che abbiamo stretto un pochino questo cilindro e adesso ripetiamo queste 36 maglie basse per 5 giri, quindi dal quattordicesimo fino al diciottesimo, entrambi compresi 14 e 18. Sono arrivata al diciottesimo giro del corpo facendo 36 maglie basse, adesso nel diciannovesimo devo andare a diminuire 6 maglie e quindi ne otterrò necessariamente 30. Per fare questo ripeterò un modulo composto da 4 maglie basse e una diminuzione, il tutto per 6 volte. Quindi andrò a fare adesso subito le 4 maglie basse, questa è una, due, tre, quattro maglie basse e come vi dicevo la diminuzione. Ventesimo giro da 30 maglie ne andiamo ad ottenere 24, ne togliamo quindi 6, ripetiamo il modulo, 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, due, tre, quattro maglie basse e la diminuzione. Questo è il modulo da ripetere. Alla fine del ventesimo giro, quindi quando abbiamo 24 maglie qua, io comincerei a mettere il materiale acrilico. Benissimo, continuiamo e con il ventunesimo giro da 24 maglie ne otteniamo 18, sempre facendo 6 diminuzioni e quindi andando a ripetere il modulo, 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una maglia bassa, la seconda, quindi 2 maglie basse e poi la diminuzione. Dobbiamo ripetere questo modulo 6 volte. Nel ventiduesimo giro ripetiamo una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte e andiamo ad ottenere 12 maglie basse, quindi una maglia bassa e poi la diminuzione. Il ventitresimo giro è l'ultimo per quanto riguarda il corpo e facciamo 6 diminuzioni. Quindi come per la testa vedrete che questa apertura si andrà a chiudere. Se ci fosse bisogno prendiamo un attimo l'agono e chiudiamo meglio. Il ventunesimo giro ripetere. I pezzi che abbiamo finora sono testa, corpo e orecchie, quindi se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel mi piace, inoltre iscrivetevi al canale per non perdere le notifiche e quindi feed del prossimo video con il quale magari realizzeremo zampette e la carotina. Con una notifica sarete avvisati che ho appena pubblicato l'ultimo video. Per oggi ci salutiamo e ci troviamo al più presto. Ciao! 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 Grazie a tutti.